Scandalo sull'isola. Greta Zuccarello contro Valentina Vezzali. Sei pronto per scoprire gli ultimi aggiornamenti sull'isola dei famosi? Ti racconto cosa è successo nella puntata di oggi e quali sono le novità che stanno agitando i naufraghi del reality show condotto da Vladimir Luxuria. La sportiva Valentina Vezzali ha rivelato di essere molto demoralizzata per la situazione nella squadra blu. Durante la puntata di oggi, ha condiviso con Greta Zuccarello e Alvina la sua frustrazione per non essere riuscita a pescare del cibo. Si è lamentata amaramente di non trovare nulla da mangiare sulla spiaggia e di essere alquanto demoralizzata. Ma le tensioni non si fermano qui. Greta Zuccarello si è scagliata nuovamente contro Valentina Vezzali, accusandola di lamentarsi troppo e di essere pesante per il gruppo. Anche Rosanna Lodi ha espresso il suo dissenso, sottolineando che non è il massimo avere qualcuno che si lamenta continuamente e fa domande inutili. Nel frattempo, le cose sembrano migliorare per la squadra rossa capitanata da Samuel O'Connor. Dopo aver finalmente acceso il fuoco, i naufraghi hanno costruito una capanna e Rosanna Lodi ha preparato degli strozza preti per tutti. L'entusiasmo è alle stelle e i naufraghi sembrano essere più uniti che mai. Ma quanto durerà questa armonia? Resta sintonizzato per scoprire se ci sarà un nuovo scontro tra Greta Zuccarello e Valentina Vezzali e per tutte le ultime novità sull'isola dei famosi. Non perderti neanche un dettaglio di quello che succede sull'isola più famosa della televisione. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campagna.